L'OV ha disegnato dei doposcitrendi per noi donne, infatti questo modello ha un bellissimo colorino in montone che può essere ripregato su se stesso, la fodera è in Gore-Tex, quindi mantiene il piede asciutto e caldo, abbinato al parte lana. La suola è in gomma, quindi non solo protegge la tomaia, ma ha anche un ottimo grip sulle superfici bagnate, mentre il modello caldera ha il gambale in montone e i tre bottoni valorizzano la linea, anche questo modello è foderato in Gore-Tex, quindi il piede rimane asciutto all'interno, molto caldo, un fit eccezionale e anche grazie a questa suola ALS protegge la tomaia e ha un ottimo grip sulle superfici bagnate.